Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, un membro dell'OSCE che ha lavorato in Ucraina in una missione di monitoraggio internazionale ha fatto dichiarazioni sconvolgenti nell'intervista che stiamo per propormi. Per alcuni ciò che ascolteranno potrà sembrare inverosimile, ma d'altra parte vi sono numerose conferme da ambo le parti in conflitto, alcune delle quali le presenteremo nel video sul nostro canale Telegram. Inoltre vi è il professor Peter Koenig, un analista geopolitico ed ex economista senior presso la Banca Mondiale e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove ha lavorato per oltre 30 anni in giro per il mondo e che insegna presso università negli Stati Uniti, in Europa e in Sud America. Va giù pesante, non si limita a confermare, ma si domanda se siano esseri umani coloro che stanno governando il mondo e che gestiscono istituzioni come il World Economic Forum, l'OMS, Gavi, il Club di Roma, eccetera. Vediamo ora cosa dice l'ex membro dell'OSCE e poi ascolteremo le varie conferme. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su Telegram e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.